La peste suina cosa complica per la vostra attività? Noi dovremmo portare gli animali qua una volta che abbiamo macellato tutti quelli che abbiamo in questo recinto ad esempio. Se le cose stanno come si stanno evolvendo non potremo più farlo e non sappiamo per quanto tempo. La seconda problematica è che anche se in via ufficiosa non ufficiale ci viene detto di diminuire il numero dei suini però non possiamo portarli nel macello che è proprio in provincia di Piacenza e Abettola perché dovremmo far transitare i nostri suini dalla regione Liguria alla regione Emilia-Romagna. In questo momento l'ASL emiliana non lo prevede. Esatto, l'ASL emiliana in questo momento ha messo una sorta di veto quindi per noi questo è già un problema, lo stiamo vivendo da qualche settimana. Siete anche indietro come lavorazioni e tutto immagino. È vero che siamo in periodo di bassa stagione però essendo trasformatori noi con le lavorazioni di adesso soprattutto per le pezzature pesanti noi andiamo adesso a preparare i prodotti che andranno somministrati a luglio-agosto quindi con l'alta stagione. Attualmente abbiamo già un ritardo di tre settimane sulla lavorazione. È già un danno perché comunque noi avremo già possibile mancanza di prodotto quest'estate. Magari non è sotto gli occhi di tutti perché comunque attualmente tutte le indicazioni che vengono date riguardano solo la zona rossa. Che è un bene che non sia zona rossa questa, noi siamo nella zona di sorveglianza però noi abbiamo già un danno che quasi sicuramente non verrà neanche magari preso in considerazione. Perché? Perché siamo comunque, la Liguria è piccola dal punto di vista degli animali. Se noi pensiamo all'Emilia Romagna, pensiamo alla Lombardia che contano 9 milioni di capi in Liguria abbiamo mille capi. Capisco che a livello economico comunque non è sostenibile ma per le realtà di queste vallate ogni piccola azienda è una realtà sostenibile a sé ma che sostiene un territorio. Grazie. Grazie.